Metti in una ciotola capiente 500 g di farina, sbriciolo 10 g di lievito di birra fresco, 3 g se si utilizza quello secco. Unisco 50 g di zucchero, 50 g di strutto, e un pizzico di sale. Inizia ad impastare con le mani. Versa a file in più riprese 250 ml di latte leggermente tiepido. Lavoro fino ad ottenere un panetto. Sposto sul piano da lavoro. Continuo a lavorare energicamente per 5 minuti. Ottengo un panetto sodo e liscio, arrotondo nelle mani. Sposto nella ciotola. Copro con la pellicola da cucina e lascio lievitare in un posto caldo fino a raddoppio. Nel frattempo preparo la farcia. Metti in una ciotola bella capiente 400 g di ricotta di pecora ben sgocciolata. Unisco 200 g di zucchero a velo. Lavoro con la spatola fino ad ottenere una bella cremina. Se utilizzate la ricotta di mucca consiglio di passarla a setaccio almeno due volte. A questo punto unisco 60 g di goccia di cioccolato fondente. Mescolo per bene. Metto la farcia nel frigo fino al momento dell'utilizzo. Rascolse il tempo l'impasto ha raddoppiato il suo volume. Sgonfio leggermente con le mani. Sposto sul piano da lavoro. Taglio dei pezzi di circa 90 g. Lavoro brevemente ogni singolo pezzo. Ottengo una pallina. Lascio riposare per 10 minuti. Nel frattempo olio gli stampi per cannoli. E ora prendo la pallina e allungo sino a circa 40 cm. Avvolgo i cannoli oleati, fermo la punta e a torciglia formare una spirale. Procedi in questo modo fino al termine di tutte le palline. Posiziono man mano i cartocci in modo distanziato sulla leccalda da forno coperta con carta forno. Copro con la pellicola da cucina. Lascio riposare per un'ora. Trascorse il tempo frigo pochi pezzi alla volta in olio di arachidi non caldissimo. Rigiro spesso in modo che i cartocci si idorano lentamente. Ora che sono cotti e ben dorati, lascio scolare l'unti in eccesso su carta assorbente. Lascio intiepidire. Rimuovo i cannoli in alluminio. Faccio rotolare nello zucchero simulato. Riempi i cartocci con la farcia di ricotta preparata in precedenza. Ed ecco pronti i miei carissimi amici i cartocci siciliani, un dolce tipico della pasticceria siciliana. I golosi gusci e la deliziosa crema di ricotta danno vita a una vera delizia. Sono perfetti per la colazione o una dolce merenda. Se per caso avanzano si conservano in contenitori a chiusura ermetica. Consiglio di provarli, sono troppo golosi! Consiglio di provarli, sono troppo golosi!